A Teramo nel fine settimana sono stati diversi controlli eseguiti dalla Polizia Municipale relativi al rispetto delle norme anti-Covid, controlli che hanno portato alla chiusura per cinque giorni di un bar e sanzioni per due attività, vicenda che ha scaturito delle proteste sui social dove alcuni esercenti hanno manifestato la propria rabbia per il perdurare di misure che a loro avviso li penalizzano ingiustamente, evidenziando peraltro la mancanza di adeguati ristori da parte dello Stato. Per questo motivo insieme ad alcuni colleghi hanno deciso di chiedere un incontro agli amministratori comunali, in particolare al sindaco e l'assessore al commercio. Abbiamo chiesto più volte la riapertura anche in zona arancione dell'attività di somministrazione anche con regole più rigide però per mettere ai bar e ai ristoranti di utilizzare gli spazi all'aperto di Deor perché per noi questa sarebbe la soluzione ideale visto che poi ci troviamo quotidianamente a combattere invece con gli assembramenti esterni di alcune attività commerciali perché poi devo dire che in questa città ci sono tantissime attività commerciali di somministrazione che rispettano alla lettera tutte le disposizioni. C'è un problema sulla somministrazione esterna di alcune attività che non hanno evidentemente ben compreso che la somministrazione all'esterno, cioè che permetta a delle persone di stare in piedi senza mascherine vicini a consumare, sembrati a consumare bevande d'alcoli c'è un rischio sanitario. Quindi questa fattispecie specifica noi non la possiamo consentire, non la consentiremo. Preferiamo che siano seduti, per questo cerchiamo di portare avanti questa battaglia perché in un tavolo al massimo sono quattro persone, sono distanziate e sarebbe una situazione molto più sicura. Alcune attività purtroppo nel weekend sono incappate in delle sanzioni perché evidentemente i vigili urbani hanno riscontrato che ci fossero i requisiti per sanzionarli in quanto c'erano evidentemente delle persone all'esterno a consumare, evidentemente l'asporto non era fatto come doveva essere fatto oppure per altre motivazioni. È chiaro che questa amministrazione incontrerà le attività di somministrazione perché, come abbiamo sempre fatto, ogni volta che ce l'hanno chiesto, è sicuramente evitando questi fugi in avanti, queste libertà che magari sicuramente bisogna evitare nel dialogo che riusciremo insieme a trovare una strada.